Salve a tutti amici oggi diciamo una giornata bruttissima che sta mettendo a piovere e niente sono qua in questa montagna di nuovo questa è la grotta e sto accendendo un fuochetello che silenzio si sta bene qua in questa montagna si sta bene saluto tutto rrs Federico Cini Mimmo Manza e suo figlio mentre vado a vedere se c'è un amico mio che deve venire qua che fai non ci mettono neanche non ci mettono neanche non ci mettono neanche non ce n'è più forse fosse neanche finocchietto e che si è continuato la fine la fine è stata la fine la fine e che si è più importante il mio amore non c'è più il nostro amore non c'è più niente si vede tutta la città è quello che sto io in questo palazzino si vede tutta la città si vede tutta la città e ritorno un pochetto un gaspargine Grazie a tutti. Un saluto a tutti amici, a più tardi.